Era un operaio specializzato in lavori in quota alla rete elettrica. Ad essergli fatale è stata proprio una caduta da un traliccio dell'alta tensione mentre era al lavoro nella zona industriale di Castegnato, in provincia di Brescia. Sami Makukuli aveva appena 22 anni. Era cresciuto in Albania, ma poi si era trasferito a Caorle. Abitava col padre a Porto Santa Margherita. In Albania erano rimasti la madre e il fratello, oltre alla fidanzata, che avrebbe presto sposato. La tragedia si è verificata a martedì pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della caduta, la rottura di un grosso cavo di sicurezza. Ma saranno le indagini dei tecnici del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, intervenuti per i rilievi assieme ai carabinieri, a chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. L'unica certezza è che Sami è precipitato da quasi 50 metri d'altezza. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto sul colpo ed è l'ennesima vittima sul lavoro, un altro nome che si aggiunge alla drammatica lista di chi non è più tornato a casa da una giornata di lavoro.